e qua davanti a noi c'è la ex caserma mentre qui di fronte a noi come vedete questo muretto secco era una mulettera che era stata convertita anche a trincea come vedete qua davanti vedete questo muretto che va su e si va su verso il dorso alto questa zona qua adesso come vedrete nell'aprirsi era famosa anche per la seconda guerra mondiale e per i partigiani infatti qua sopra c'è la stele di zitta secchi adesso lo faccio vedere appena arriviamo a girare la valle vedete come giriamo la valle qua adesso questa è sempre la nostra caserma e qua adesso la vedrete qua avanti a noi la sopra vedete la dove c'era la capanna di zitta secchi mentre qui era il posto dove c'erano i nostri carissimi della settantottesima fanteria all'inizio e poi arrivò la sedicesima artigeria campale